Eccoci in diretta per Poker Italia Web, qui dal torneo 5.50, in diretta dal Casino della Vallée. Sono partiti in 63 e 25 giocatori sono ancora in gioco. Andiamo a fare un salto tra questi tre tavoli. Vediamo che c'è il nostro Carletto, ci saluta la Chinelli che è appena uscito. Adesso si tocca a Carletto favorito tecnico. Carletto? Anche secondo me Carletto potrebbe fare un grande risultato stasera. E se lo meno. Vediamo il tavolo, vediamo anche Fiorani in fondo e altri giocatori. Ci spostiamo poi all'altro tavolo di gioco. Vediamo Mosca, c'è la musica, c'è la pausa. E passiamo all'ultimo tavolo. Ricordiamo che stiamo giocando, siamo in garezza dal Casino, qui a La Vallée, per il torneo da 550 Italia Runder Poker Tour. Come vedete è stato cambiato il livello. Ora i blind sono 1.2000, ante 200. Round 11, giocatori entranti 63, 25 in gioco. Chip count 630.000 chips, average 25.200. Il primo premio è 10.745. Grazie. 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 Grazie.